sognare si può oggi ci trova ci troviamo al parco le valere e c'è un convegno viver sano uomo e animale e ho incontrato barbara picca presidente dell'associazione teca buongiorno ciao caro questo sorriso mi fa ben sperare grazie nel senso che hai sicuramente un approccio positivo rispetto alla vita ma quindi sicuramente rispetto all'associazione quindi a tutto quello le cose belle che segui certo perché teca centro studi nasce e stavo pensando mentre tu stavi aprendo la registrazione che domani è il suo compleanno teca nasce il 10 di novembre del 2014 quindi domani compiamo cinque anni nasce da un sogno di quattro amici al bar io il dottor guiso e altre due persone come associazione che vuole mettere insieme tutte le risorse che si occupano di pet therapy meglio in italiano interventi assistiti con animali iniziamo a mettere insieme un po' di associazioni oppure dei libri professionisti che siano coadiutori per realizzare i progetti di interventi assistiti nasce da quattro amici al bar e dopo cinque anni avete fatto tanta strada abbiamo fatto tanta strada sì è vero perché in realtà all'inizio i progetti che riuscivamo ad attuare erano pochi poi man mano uno si fa conoscere giustamente anche si fa apprezzare bisogna essere così e allora abbiamo messo insieme un po di progetti abbiamo messo un po di progetti abbiamo creato tre gruppi diversi all'interno di teca c'è teca gatti perché abbiamo scoperto che la felino terapia io sono più per i gatti sono una gatta dipendente hai l'occhio da gatto grazie sei gentilissima i nostri aspettatori non possono vederlo ma metteremo la foto grazie finalmente nasce la teca gatti con la felino terapia e poi c'è invece il gruppo teca violenza che si occuperà metteremo a breve grazie all'intervento della nostra vicepresidente che un avvocato ed è un mediatore familiare si occupa di conflitti metteremo anche su dei progetti dove l'animale diventa un mediatore nelle persone vittime di violenza o di tutto il genere dal bullismo a violenze di tipo familiare o quant'altro questo è un aspetto un po innovativo è un po innovativo ma in realtà ci sono diversi studi e di questo soprattutto per esempio nella lotta contro il bullismo l'utilizzo del cane il prendersi cura insegnare come un animale deve essere tra virgolette comandato addestrato per eseguire determinati comandi e questo è un pochettino innovativo poi ci sono questi progetti io ne ho uno nel cuore in particolare perché è realizzato alla pediatria dell'ospedale di moncaglieri ed è un progetto che alla terza edizione ci consente di portare cani e gatti il martedì mattina in reparto a far visita ai ragazzi ricoverati e mi fai venire i brividi perché sono secondo me sono veramente operazioni positive certo l'ultimo l'ultimo nato proprio in ordine di tempo forse ne hai già sentito parlare quello che realizziamo a regina margherita con i bambini che hanno l'artite reumatoite e lì per adesso utilizziamo due cani ma secondo me i gatti entreranno nel vivo anche prenderanno piede sicuramente la spinta più bella è vedere i risultati io sono un po il tecnico di te cam definirmi così nel senso che io poi sono quella che raccoglie i dati ho sviluppato un database per creare le relazioni o faccio somministrare costruisco e questionare insieme ai nostri collaboratori ovviamente da somministrare sia il personale che ai genitori e ai pazienti coinvolti e i risultati sono sempre veramente molto ti danno la spinta per andare avanti la mia più grande pena è non riuscire poi a trovare il finanziamento per replicare il progetto certo o per in un altro luogo oppure non poterlo continuare infatti la vita mia e soprattutto anche dei nostri più stretti collaboratori quella di andare in giro a cercare proprio finanziamenti se le risorse per poter finanziare per andare avanti se qualcuno dei tuoi collaboratori di chi si sta sentendo volesse mai darci un piccolo contributo trova sul sito le indicazioni per farlo a proposito di questo diamo le indicazioni rispetto al sito rispetto alle vostre pagine il sito è www.centrostuditeca.it lì troverete pagine dove noi ci descriviamo il team mettiamo in evidenza i nostri progetti potete scriverci adesso mi fa venire un dubbio siccome sono io che curo il sito non mi ricordo più se c'è l'Iban ma questa sera lo metterò a questo punto che figuraccia sono un presidente un po' maldestro sei sicuramente coinvolgente rilasciando ovviamente tutte le ricevute del caso il progetto più carino che secondo me partirà a breve quindi della collaborazione dell'istituto zooprofilattico per quanto riguarda soprattutto la certificazione degli animali che noi impieghiamo e con l'associazione casa zoo e altre dovrebbe prevedere l'accompagnamento dei piccoli pazienti dei bambini nei giorni che precedono un intervento chirurgico per fare da loro compagnia e accompagnarli distranno un pochettino dal pensiero dal pensiero anche perché affrontare un intervento per un adulto è difficile ma io penso che per un bambino non sia così meno difficile ma no anzi anche perché loro spesso non ci fanno vedere le loro paure e che però invece c'è la funzione genitoriale che non è semplice in quei casi esatto esatto perché avere un supporto un supporto può essere carino sicuramente può far bene bene così io ti ringrazio tantissimo spero che potremmo rincontrarci di nuovo per capire se ci sono poi delle novità grazie che cosa state facendo certo apriremo una pagina breve mi fai venire in mente questo sul sito dedicato alle letture sullo scaffale di teca nelle aree tematiche dai romanzi che trattano del rapporto uomo animale a invece riviste più scientifiche che articoli proprio un pochettino più impegnativi però la lettura sotto l'ombrellone è quella davanti al computer diciamo no perfetto quindi anche questo aspetto sì certo va curato grazie grazie a te dello spazio alla prossima grazie a te grazie a te